Ciao, siamo i Fantabaghi! Ciao, io mi chiamo Capitan Margheritoni, mi occupo di effetti tablet, seconda voce e cori. Ci siamo formati nel 2013, luglio del 2013, è stata una cosa abbastanza casuale perché Jatavik, il batterista, è venuto per caso nel locale dove andavamo di solito io e Capitan Margheritoni e non era mai venuto e mi ha detto che voleva formare una band cover cartoon e gli ho scherzando e gli ho detto se lo fai vengo a cantare. Poi il giorno dopo mi ha preso fin troppo sul serio, ha chiamato gli altri elementi e abbiamo cominciato le prove. Ciao, io sono Pat Banjo e sono il cantante dei Fantabaghi. Abbiamo questa lunga carriera biennale in cui abbiamo suonato un po' dappertutto, insomma ci divertiamo e speriamo di far divertire. Stiamo facendo un album che sarà un album di cover di cartone animati rivisitate perché ci piace mischiare un po' i generi, cambiare un po' le ritmiche e cose del genere, più due pezzi nostri quindi per adesso ci limitiamo a fare più cover che altro nell'album. Dovrebbe essere pronto a dicembre e speriamo di riuscire poi a farlo sentire a più persone possibili. Io sono Bad Dimici, il chitarrista e corista dei Fantabaghi. Abbiamo suonato tra le province di Milano e di Varese, che è la zona da dove proveniamo. Abbiamo fatto dei concerti in vari eventi tipo una 24 ore di pallavolo, notti bianche, locali attrezzati o anche poco meno attrezzati. Ma l'importante è stato portare il nostro live a dei livelli stellari. Hanno sempre gradito tutti quanti, credo che di concerti da quando ci siamo formati ne avremo fatti 15-20, non saprei. Più o meno, tra i 15 e i 20. Ciao, sono Yatta Vic, batterista dei Fantabaghi. I Fantabaghi ovviamente sono molto social. Ci potete trovare su Facebook, alla nostra pagina Fantabaghi o al nostro profilo Facebook Fantabaghi Fan Page. Ci potete trovare su YouTube, il canale Fantabaghi e Twitter. Tutti i maggiori social dell'universo. Ci sono anche, oltre ai video dei live, ci sono anche dei video comici che facciamo, perché facciamo anche delle cose un po' comiche, un po' degli sketch comici. Insomma, se cercate sei scemi colorati, scrivete Fantabaghi su internet, probabilmente dovreste trovare noi. Contattateci. Chiamateci. E mettete mi piace. Like, che adesso va di moda. Tanti tanti like. Tanti like. Pugno di pollice per i Fantabaghi. Ciao, sono Mr. Mongusi e suono il basso. Basso. Vi salutiamo, è stato bellissimo venire qui a San Marino Comics. Spero che ci siano tantissime altre occasioni come questa. Noi continuiamo a suonare, speriamo che voi continuate a sentirci. Ciao dai Fantabaghi. Ciao, sono Andrew e sono il tastierista dei Fantabaghi. È stato un piacere. Che belli che siete, mamma mia. Ciao, sono Andrea e anche io suono nei Fantabaghi. Ciao.